Senti un padre che ha permesso la distruzione del tuo figlio per liberare i nostri fratelli e sorelle. Ci sono tanti di loro che sono schiati, oh signore, di queste cose. Oggi il tuo signore dice, non più liberali totalmente il nome di Gesù Cristo. Vatti e le sattano, il nome di Gesù Cristo. Lasciali, il nome di Gesù Cristo. 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 Grazie.